La novità del giorno Che stai facendo? La barba Che stai facendo? Non ho capito La barba La barba Tu non ce l'hai la barba? Come ti stai facendo la barba? Buona La barba è buona? Ma è morbida adesso la pelle? Tocca, ti fai vedere? Morbida? Sì? E come te la fai la barba? Come te la fai? Fammi vedere Fammi vedere come fai la barba Così fai la barba? No Hai finito di fare la barba? Eh? Luigi Luigi è finito di fare la barba? No? Ah stai sciacquando? Dopo? Hai finito? Basta Scotta Scotta? Con l'acqua calda? Beh va bene Adesso lascia tutto e dobbiamo andare giù papà Eh? E dopo la fai la barba? Va bene? Ok? Ciao ciao Saluta Ciao